Bentornati all'appuntamento con Voto in Comune, l'approfondimento politico di MTV Canale 89, Radio Nuova Macerata per le amministrative del 12 giugno. Ospite come studio per le amministrative di Corridogna c'è la candidata Marianna Petrini per la lista Cambiamo Corridogna a sostegno di Giuliana Giampaoli, sindaco. Benvenuta. Grazie Tiziana, un saluto a tutti e grazie per questa opportunità. La prima domanda, una breve presentazione per conoscere meglio chi sei e cosa fai? Bene, grazie. Io sono Perlini Marianna, sono nata a Corridogna e sono cresciuta a Colbuccaro e sono attualmente mamma di un bambino di 4 anni, nonché ingegnere. Dopo un'esperienza all'ufficio speciale ricostruzione, ho iniziato un'esperienza all'ufficio tecnico della provincia di Macerata, nel settore ricostruzione e patrimonio edilizia scolastica. Da qui poi è nato anche tutto quello che riguarda poi che posso portare di buono in questa campagna elettorale. Dunque perché la scelta di candidarti per il comune di Corridogna in questa lista e quindi per te la prima esperienza? Per me la prima esperienza. In realtà non avrei immaginato di intraprendere un'esperienza così bella, comunque entusiasmante, perché sono sempre stata abbastanza lontana da quello che può essere la vita politica, le vicissitudini, sempre presa da molti aspetti, da molte questioni private di una mamma, di una moglie. Invece si è offerta l'occasione nel momento in cui in questi anni di questa ultima amministrazione, con i fondi disponibili per le scuole e la ricostruzione, c'era l'opportunità di valutare i progetti in atto. All'interno di questa fase in realtà è scaturita la preoccupazione da parte di noi mamme perché per un periodo si era parlato di accorpamento della scuola, specialmente di quella di Colbuccaro perché è una scuola un po' definita rurale e quindi diciamo si rischiava questa chiusura. Quindi le mamme si sono interpellate a me, io ho risposto a loro, ho cercato delle risposte indipendentemente da maggioranza, minoranza, per me non era importante e diciamo ho trovato delle risposte, dei riscontri e una ottima trasparenza da parte dell'attuale opposizione, in primis da Anelia Calvicioni, a seguire poi da tutti gli altri componenti che poi sono confluiti nell'attuale amministrazione, che mi hanno poi chiesto di continuare a dare il mio apporto oltre quei due anni, diciamo di proseguire insieme a loro. Dunque i valori di questa lista, cambiamo Corridonia, quali sono anche a sostegno della candidata sindaco Giuliana Giampaoli. Sì, allora i valori partono principalmente dall'esigenza di trasparenza, dal dialogo, dalla condivisione dei progetti, dalla voglia di fare e di cambiare. Quindi il programma spazia su vari aspetti, dallo sport alle politiche sociali, ai progetti delle opere pubbliche, le scuole, insomma dal bisogno di fare qualcosa. E in questo bisogno l'idea è quella di trovare il dialogo con i cittadini, capire di cosa hanno bisogno e chiedere se quello che noi proponiamo è quello che ci si aspetta. Quindi dialogo e trasparenza sostanzialmente, che forse è l'aspetto principale di cui necessitiamo in questo periodo. Nel programma della coalizione a sostegno di Giuliana Giampaoli, quali sono le priorità, i punti che senti più vicino a te, alla tua esperienza e quindi quale sarà anche il tuo impegno a tal proposito? Allora, i punti principali sono quelli che magari ho accennato già inizialmente, sono quelli legati ai progetti delle scuole, perché attualmente tuttora, pur essendoci dei finanziamenti, alcuni di loro sono probabilmente fortemente sottostimati. Quindi il mio impegno è quello di dare un supporto, un'attenzione maggiore su questi aspetti per fare in modo che effettivamente questi progetti possano andare in porto senza essere bloccati da varie problematiche, come possono essere ad esempio quelle degli aumenti prezzi, gli appalti, tutte le problematiche che chi sta nelle opere pubbliche oggi sanno benissimo che sono molto attuali e richiedono molta attenzione. Quindi l'edilizia scolastica, al di là delle risorse o meno finanziamenti, quindi un impegno sul futuro della città anche su questo? Certamente, perché passa da lì, anche perché una struttura scolastica, se progettata adeguatamente, può fornire degli spazi che quotidianamente, quando la scuola non è utilizzata, può essere impiegato per altri usi sociali di aggregazione, altri utilizzi utili comunque per la cittadinanza, quindi sono spazi che non vanno a finire necessariamente nel momento in cui si chiudono le classi, le aule. Mancano pochi giorni, al 12 giugno, come è stata fino a questo momento la campagna elettorale, questa sfida tra i candidati sindaco Pierantoni, Giampaoli e Scipioni, come hai visto questa competizione fino a questo momento? Inizialmente è stata più pacata, poi mano a mano è andata sempre più aumentando e è anche il bello di questa campagna. L'ultima settimana si sente, gli impegni si infittiscono e si cerca di raggiungere più persone possibili per essere chiari su quello che si vuole fare e aiutare a fare una scelta più consapevole. La sua campagna elettorale come è stata fino a questo momento? Allora, la mia come mamma è stata intervallata tra momenti da dedicare comunque alla famiglia, ma momenti in cui mi sono interfacciata principalmente inizialmente con le altre mamme, sono andata un po' porta a porta a dire che mi presentavo, che ero in lista, che appoggiavo Giuliana perché credevo e avevo fiducia in quello che ci proponeva e che non erano soltanto promesse, ma erano effettivamente proposte attuabili. Adesso si sta procedendo con gli incontri locali, con la cittadinanza locale e si sta procedendo nel cercare di chiarire al meglio i punti del programma, anche rispondendo a volte ad alcune piccole frecciate che vengono ovviamente dagli altri candidati, ma è giusto che sia così, insomma, sia in campagna elettorale e va bene così. Quindi, come ha detto all'inizio, la frazione di Colbuccaro, quindi anche le frazioni, come hanno vissuto questa competizione elettorale, in questo momento? La frazione di Colbuccaro, nello specifico che ho potuto vedere più da vicino, è stata molto partecipa e molto curiosa. Ci si stupeva addirittura che nei punti d'incontro, diciamo, tra i vari candidati, candidati, l'ultimo ieri sera, si riuscisse a far uscire un po' la gente, forse non ci si è più abituati ultimamente. Quindi è stato un momento d'incontro, di apertura molto stimolante, che, diciamo, fatto nei vari quartieri della città, mi ha permesso anche di entrare meglio nel merito e le problematiche che non sono soltanto quelle della mia frazione, ma quelle di tutti i quartieri della città. Grazie dunque per questa intervista alla candidata Marianna Petrini per Cambiamo Corridogna a sostegno di Giuliana Giampaoli, Sindaco. Grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Grazie per averci seguito. Grazie a voi.